ora si registrerà la conferenza allora io condivido il mio schermo si puoi? ok si non sapevo se ti avevo dato se si vede si vede ottimo e se sono abbastanza bravo dovrei riuscire a metterlo in visualizzazione senza le altre menate ma evidentemente non sono così bravo c'era il tasto L chi è che mi sa dare una mano su come si cominciamo alte F4 grande F4 l'ho spenta sei veramente F11 lo sapevo che ne avevi cercati degli altri prima di me se no puoi mandarci il pdf e ognuno se lo stampa una volta c'era l'L vabbè dai lasciamo così F11 F11 ma che F11 F11 nulla vabbè facciamo che va bene così tanto nessuno si formalizza anche se si vendono le mie icone avevo il sospetto avevo il sospetto che ne avessi già chiamati altri e che tutti ti hanno dato buca cosiddetto che eravamo un po' subito dopo le vacanze di Natale quindi c'era gente un po' pesantita un po' mangiata e quindi hai ripiegato su di me e non so neanche perché poi alla fine mi hai chiamato perché poi mi denigri sempre ne parli sempre male di me direttamente quindi è proprio un ripiego quello di oggi al di là di questo sarebbe bello se ci fosse uno scambio oggi anche perché quello che ho fatto qui queste slide queste diapositive diapositive in termini di comunicazione un po' antico queste slide che ho messo sono giusto un canovaccio per provare a dire due cose che sono alcune cose che ho imparato durante questi anni in cui ho deciso di parlare un po' di quello che faccio di condividere quello che faccio e anche di quello che poi percepisco dalle altre persone che che comunicano in bene o male perché comunque alla fine tutti quanti comunichiamo nelle professioni tecniche non solo nelle professioni tecniche ma comunichiamo un po' sempre è una condivisione di esperienza io non non ho nessun titolo per per dare dei consigli per dare dei suggerimenti e per dare delle indicazioni men che meno sulla comunicazione non ho veramente nessuna nessuna autorità in questo senso è per questo che poi ho detto mi piacerebbe che ci fosse una condivisione perché tutti quanti comunichiamo e tutti quanti riceviamo dei messaggi delle comunicazioni in questo senso le professioni tecniche sono tante io qua ne ho messe alcune che sono quelle che mi sono venute in mente mentre scrivevo queste righe e ce ne sarebbero altre tante se non di più e sono abbracciano tanti ambiti a tante professioni tecniche hanno delle intersezioni inevitabilmente altre hanno aderenze e quindi percorrono delle strade che sono molto simili in alcuni casi percorrono la stessa strada per poi dividersi e andare a prendere delle altre delle altre branche e dedicarsene alle altre cose però è innegabile che di professioni tecniche ce ne siano tante io ne ho messe alcune ma mi viene in mente che una professione tecnica potrebbe essere anche è sicuramente anche qualcosa legato che ne so all'economia quindi commercialisti rivisori dei conti alle scienze umanistiche o alle discipline giuridiche avvocati sono tutte professioni tecniche io nel mio nel mio settore sono legato all'ingegneria al rilievo alla topografia al disassi introgeologico per cui con un po' di paraocchi per me le professioni tecniche sono un po' più queste però in realtà non è così sono tantissime sono 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 veramente abbracciano una una prendono dentro un po' di tutto ci sono c'è la medicina c'è veramente di tutto per quanto riguarda le professioni tecniche ognuna secondo me ha una lingua diversa anche se tutti quanti parliamo se siamo in Italia l'italiano in realtà quando parliamo della nostra professione del nostro lavoro di quello che facciamo abbiamo un nostro linguaggio anche se uno non è molto bravo non ha una grande dimestichezza con l'inglese ad esempio se legge un articolo scientifico della sua materia ci sono dei termini ci sono dei tecnicismi ci sono dei modi di esporre le cose che sono abbastanza standardizzati e quindi ha molta più familiarità con quello che c'è scritto pur non essendo gran padrone della lingua e questo è perché ogni professione tecnica secondo me ha il suo linguaggio e non è per niente banale che due tecnici ad esempio e qua ritorno un po' al mio articello un ingegnere e un architetto parlando di un punto in comune che potrebbe essere che ne so il rilievo di un terreno prima di un edificazione calcoli strutturali per la progettazione non è per niente detto non è per niente scontato che le due lingue si parlino e per due per lingue che si parlano io intendo far arrivare in maniera chiara in maniera limpida in maniera decisa il messaggio da una parte all'altra serve una sorta di traduzione serve una sorta di chiamiamola mediazione se vogliamo serve un qualcuno che faccia un passo verso l'altro e gli permetta di capire che cosa sta dicendo è evidente che non si comunica solo tra tecnici ora siamo in un ambito tecnico siamo all'interno del GeoBreak GTR si occupa di cose tecniche il GeoBreak i vari temi del GeoBreak sono sempre stati legati agli aspetti tecnici ma non si comunica assolutamente solo tra tecnici ci sono c'è tutto quello che avviene all'interno di un'aula ad ogni livello di apprendimento ora io ho mia figlia in terza media e ci sono dei professori che comunicano in modo secondo me molto efficace efficiente ne sono accorto durante il primo lockdown quando c'era la DAD quindi ho avuto la possibilità di seguire alcune cose stanno un po' dietro la porta ce ne sono altri che no non lo fanno e quindi la comunicazione tra professori e studenti è inevitabilmente un ambito in cui si comunica qualcosa se vogliamo di tecnico ma anche non solo di tecnico dove è importante che chi sa le cose il professore abbia la possibilità di sappia trasmettere e sappia tradurre nel linguaggio di chi ascolta quello che sta che sta trasmettendo che sta comunicando c'è la comunicazione tra clienti e fornitori tutti noi o almeno credo la maggior parte di noi siamo facciamo business in qualche modo sia che siamo dipendenti sia che siamo dei libri professionisti sia che siamo delle società abbiamo ci interfacciamo con dei clienti ci interfacciamo con delle persone che richiedono il nostro servizio dobbiamo dirgli che cosa facciamo e dobbiamo essere in grado di dirglielo in maniera semplice perché queste persone che ci richiedono il nostro servizio magari hanno un problema da risolvere non hanno idea e non è neanche richiesto loro che sappiano come si risolve quel problema e vogliono che noi glielo risolviamo dobbiamo essere noi in grado di dirgli come lo facciamo che cosa facciamo per fargli capire effettivamente qual è la strada che percorreremo e fare sì che sia tutto il più possibile chiaro alle loro orecchie ai loro occhi di persone che non parlano in molto poco la nostra lingua mi viene da dire e se poi uno è una società vuole mettere in piedi un percorso imprenditoriale magari trova anche a inevitabilmente a confrontarsi con investitori finanziatori persone che a cui chiedere dei soldi per portare avanti la propria idea di business e che vogliono che tu gli spieghi che cosa stai facendo che cosa farai in modo semplice in modo chiaro perché se qualcuno mette i soldi sul tuo progetto deve essere sicuro di aver capito che progetto è ma per capirlo specialmente se c'è qualcosa di tecnico di molto spinto dietro ha bisogno di una traduzione di una semplificazione del messaggio e poi ci sono questa l'ho messa perché forse anche altri di voi sono capitati si sono interfacciati con i commerciali coloro che rivendono strumenti o coloro che lavorano per aziende che rivendono strumenti anche qui c'è secondo me una comunicazione da chi vuole vendere qualcosa o chi propone qualcosa a chi è il possibile acquirente e anche in questo caso secondo me la comunicazione è molto efficace in alcuni casi ci sono tecnici che ne stanno più dei commerciali e penso che forse anche a voi è capitato di incontrare dei commerciali magari alle prime armi o magari un po' che non ha approfondito lo strumento che vi stanno proponendo in altri casi ci sono dei tecnici che vogliono approcciarsi a un nuovo tipo di rilievo in questo caso perché ho messo degli strumenti di rilievo in questa slide che magari non conoscono bene quello che c'è dietro anche se internet comunque aiuta un sacco a farsi un'idea preventiva prima di incontrare qualcuno allora è importante che la persona che stirà all'altra parte comunichi sappia dare le informazioni in maniera limpida però senza stare troppo dietro a proposte aggressive o ti dico tutto quello che è buono ti nascondo quello che magari potrebbe essere un difetto della macchina o un però della tecnologia che stai comprando perché voglio fartela comprare quindi c'è anche questo aspetto secondo me della comunicazione i luoghi dove comunichiamo non sono soltanto questi ci sono sicuramente le riunioni di lavoro ci sono gli incontri ci sono le web call ci sono tutto quello che riguarda un appuntamento tra professionisti tra clienti tra investitori tra tutte le persone o comunque le realtà che ho provato a sintetizzare prima ma ce ne sono tante altre e beh ci sono sicuramente le lezioni le conferenze riprendo un po' quello che ho detto prima non so a quanti di voi è capitato di assistere a delle a delle lezioni quando eravate a scuola all'università o a delle a delle conferenze durante i congressi durante i convegni e magari accorgersi di qualcuno che è stato in grado di tenervi molto attenti a quello che stava dicendo per tutta la durata del proprio intervento mentre in altri casi persone che pur avendo una grandissima competenza e pur trattando degli argomenti anche interessanti non sono riusciti a trasmettere il messaggio in maniera efficiente nel senso che hanno dato una serie di informazioni ma dopo un po' li avete persi perché in qualche modo la comunicazione ha un po' zoppicato e poi c'è il web che è ormai da diversi anni anni decenni mi sento di dire una decina d'anni la comunicazione sul web si è molto si è molto spinta alla comunicazione sul web e qui comunichiamo in tantissimi modi c'è tutto il mondo dei social network c'è il mondo in cui siamo adesso noi in questa call ci sono le email alla fine il web le email passano attraverso il web e scrive un email è una comunicazione c'è tutta la parte legata audio video testo blog insomma c'è tantissimo per quanto riguarda la comunicazione attraverso il web e qui credo che l'efficacia l'efficienza della comunicazione debba essere spinta ancora di più perché nel web le persone hanno ormai delle ricerche complusive ci passano poco tempo tanto tempo ma in realtà dedicano poca attenzione a quello che vedono e quindi è importante poter catturare subito l'attenzione o quantomeno dare delle informazioni che sono utili nel breve tempo possibile il miglior tempo possibile per cercare di di far perdere tempo far perdere poco tempo alle persone non so che brutta è data così però in realtà è così tutti quanti quando siamo sul web cerchiamo delle delle notizie delle informazioni e se le abbiamo subito siamo implicitamente forse anche inconscientemente un po' più contenti poi c'è tutta la parte secondo me legata a la documentazione non so quanti di voi scrivono relazioni tecniche a me è capitato di leggere relazioni tecniche dove contenuti di altissima di altissimo spessore mi viene da dire o comunque molto molto dentro una materia che stavo provando ad affrontare dopo un po' dopo un po' il lettore perde il filo del discorso perché veramente sono mi viene da dire super cazzole passatemi il termine non si capisce sono scritte in maniera troppo tecnica e quindi alla fine il messaggio non arriva è chiaro che poi ogni volta che si comunica è importante sapere chi sia dall'altra parte chi ci sta ascoltando chi ci sta leggendo e quindi probabilmente se scriviamo una relazione che andrà in mano a un'altra persona che fa il nostro lavoro possiamo anche permetterci di andare molto dentro i tecnicismi perché tanto comunque siamo abbastanza sicuri che la capirà e non ci sarà niente per scontato o niente di sottinteso però alla fine c'è tutta la parte di documentazione anche la parte di capitolati preventivi non so se fate bandi se partecipate a bandi per lavori per servizi per affidamenti per incarichi o preparate offerte o avete ricevuto delle offerte dei preventivi a volte ci sono delle cose che non sono poi così chiare e anche qua secondo me la comunicazione efficace può dare veramente una grande mano nella semplificazione del messaggio comunque nel far passare il messaggio perché poi l'importante credo che sia far passare un messaggio e poi alla fine noi comunichiamo tutti i giorni anche quando siamo anche quando siamo a pranzo quando siamo a tavola quando siamo con persone che magari non pensiamo di poter rincontrare nella nostra vita professionale però magari sì c'è una in America c'è un detto che si chiama una cosa che si chiama elevator pitch cioè la capacità di raccontare a una persona quello che fai da un punto di vista professionale nel tempo in cui state all'interno di un ascensore covid permettendo quindi se uno è in grado di sintetizzare e essere bravo nel raccontare quello che fa a quest'altra persona nel tempo in cui l'ascensore in America ci sono tanti tanti piani per cui forse non si tratta di uno o due piani vuol dire che è in grado di comunicare in maniera in maniera efficiente una cosa che ho notato è che che forse avete notato anche voi o comunque se ci pensiamo in effetti non è proprio lontano dall'essere così a forza di fare le cose tutti i giorni a forza di ripeterle anche cose molto spinte cose molto tecniche anche cose che che richiedono software hardware e anche un po' di esperienza arriviamo a un certo punto e ci sembra tutto facile ci sembra tutto banale ci sembra che tutti quanti siano in grado di poter fare queste cose e ne parliamo nel solito in questo modo cioè raccontiamo quello che facciamo proviamo a raccontare una proposta proviamo a proporre un'attività sulla base di quello che facciamo in questo modo in maniera semplicistica forse un po' come se l'altra persona fosse al nostro stesso livello e sapesse esattamente di cosa stiamo parlando e non è assolutamente così noi tendiamo a dare un sacco di cose per scontato tante cose pensiamo che siano banali e non lo sono ma non lo sono neanche per persone che magari fanno il nostro stesso lavoro ma magari hanno scelto una microstrada diversa e quindi quel particolare tema quella particolare cosa non l'hanno ancora affrontato non l'hanno ancora approfondito e quindi per loro non è per niente banale e allora io credo che la responsabilità di fare il passo all'inizio vi parlavo di questa sorta di traduzione l'interprete che che deve provare a tradurre un linguaggio tecnico tra chi lo produce tra chi parla e chi ascolta è proprio chi parla che deve fare un passo verso chi ascolta la responsabilità è della persona che ne sa di più quella di semplificare il linguaggio semplificare la comunicazione eliminare eliminare tecnicismi fare un passo verso l'altra persona che sta ascoltando le altre persone che stanno ascoltando che stanno leggendo per farsi capire non possiamo pretendere che le persone con cui parliamo a cui proponiamo un progetto a cui proponiamo un intervento a cui proponiamo un servizio sappiano di cosa stiamo parlando perché la maggior parte dei casi non è così è nostra responsabilità provare a farsi capire in maniera semplice in maniera chiara quindi senza dicendo le cose come sono come saranno non so se c'è qualcuno che ha un microfono acceso non so se potete spegnere i microfoni tutti quanti ok quindi in maniera semplice in maniera chiara senza senza fare troppi giri di parole e provare a spiegare una cosa un po' come se la provassimo a spiegare a un a un figlio una figlia che è alle scuole elementari o a un o a un nonno che magari è nei suoi 80 e quindi non non è proprio aderente a quello che facciamo in maniera breve in maniera diretta quindi credo che la la sintesi sia una qualità molto importante io per esempio non ho il dono nella sintesi e mi sforzo sempre nel cercare di sintetizzare i messaggi in maniera diretta quindi se una cosa è così è così senza fare troppi giri di parole mi fanno sempre parlando dei commerciali anche perché ho avuto tante esperienze ho avuto tanti contatti con chi vende strumenti topografici dimmi il prezzo se ti chiedo qual è il prezzo perché non mi dici il prezzo piuttosto che propormi un intervento un incontro per parlare delle varie possibilità che ci sono a livello aziendale dimmi il prezzo magari io mi aspetto che quel prezzo per quello strumento sia 1000 scopro che è 10.000 evitiamo di perdere il tempo tutti quanti guarda nel mio budget non vediamoci neanche quindi credo che la comunicazione breve e diretta sia estremamente funzionale possiamo utilizzare altri strumenti oltre che alle parole noi siamo nel mondo ci prendono in giro perché gesticoliamo però ci sono altri altri strumenti a cui possiamo attingere per fare passare un messaggio mi viene in mente il mio lavoro nello specifico io occupandomi di rilievi di rilievi tridimensionali di produzione di modelli tridimensionali di nuvole di punti quando provo a spiegare a parole a qualcuno che cos'è una nuvola di punti a qualcuno che non ha idea di cosa sia una nuvola di punti credo di riuscirci fino a un certo punto quando gli faccio vedere una nuvola di punti e quindi utilizzo uno strumento che è il prodotto stesso del mio lavoro attraverso magari un visualizzatore web quindi gli faccio vedere qualcosa utilizzo uno strumento visivo il risultato è decisamente più immediato quindi è tutto molto più chiaro che cos'è quindi utilizziamo anche altre cose oltre che le parole immagini strumenti o prodotti output di quello che facciamo cerchiamo di ridurre secondo me è importante ridurre i tecnicismi al minimo ora mi viene da ci sono un paio di di esempi che potrei farvi purtroppo sono sempre legati al mio lavoro perché alla fine è quello l'ambito in cui dedico un po' di tempo alla comunicazione quando si parla di un rilievo ci sono un paio di termini che sono la precisione e l'accuratezza sono termini che sono abbastanza diversi però se parlo con una persona che non ha idea di che cosa sia il mio lavoro o quale siano i risultati del mio lavoro dovrei parlare di accuratezza per parlare di quanto è aderente alla realtà il modello o comunque l'output che propongo rispetto ai sistemi di riferimento è molto più immediato a parlare di precisione quindi ok il rilievo sarà preciso 5 cm arriva forse in maniera più immediata al messaggio nel mondo del rilievo GPS qua ho sbagliato avrei dovuto utilizzare GNSS si dovrebbe parlare il rilievo satellitare si dovrebbe parlare di GNSS qua Tiziano lo sa bene forse è più immediato parlare di GPS poi magari uno entra nel dettaglio e se uno ha bisogno di maggiori informazioni gli può spiegare guarda che non c'è soltanto GPS ci sono altre costellazioni però GPS è più immediato tutti quanti sappiamo che cos'è un GPS se una persona che non è nell'ambito tecnico gli dice si utilizza un GNSS forse non la capisce quindi i tecnicismi proviamo a ridurli al minimo cercando di far comunque passare il messaggio è una cosa facile credo di no perché specialmente nella scrittura la formazione che abbiamo noi in Italia mi sono accorto a livello di scuola superiore ma anche a livello di scuola media è una formazione che tende a a produrre del delle dei prodotti scusatemi il gioco di parole quando facciamo i temi quando si facevano le sì quando si facevano i temi a scuola utilizzando delle una delle strutture dei periodi abbastanza complessi quando in realtà secondo me dovremmo molto semplificarle queste cose quindi noi ci portiamo dietro un retaggio culturale formativo che ci tende a far forse esagerare in questo senso specialmente se utilizziamo strumenti web dovremmo cercare di semplificare molto queste cose non è facile quindi non è immediato però credo che comunicare in maniera efficace nell'ambito tecnico possa veramente fare la differenza tra farsi capire non farsi capire tra far arrivare il nostro messaggio e lasciare un po' di nebbia o comunque far sì che non sia tutto chiaro questo potrebbe voler dire ti do il lavoro o non ti do il lavoro ti investo nella tua azienda non investo nella tua azienda oppure sì facciamo un salto nel buio ma non sono così confidente che quello che mi hai detto poi riuscirà a risolvere il problema credo che sia importante io non sono non so se ci riesco però mi sono posto il problema in questo periodo in cui ho deciso di iniziare a comunicare con la mia attività con 3D Metric ormai 2016 2017 che lo faccio e quindi un po' di cose mi sono accorto di essermene scrollate ridosso specialmente per quanto riguarda la formazione la formazione che mi arriva dalle scuole superiori e qualche riscontro l'ho avuto nel senso che mi viene detto che in qualche modo il messaggio che passa anche attraverso quello che scrivo sul blog i video che faccio è abbastanza chiaro credo che sia molto importante e io volevo condividere questo però adesso sarebbe interessante se se ci fosse uno scambio credo perché penso che tutti noi comunichiamo abbiamo comunicato e abbiamo avuto a che fare con chi ha provato a farci passare un messaggio o comunque abbiamo provato a far passare un messaggio verso qualcuno e magari in quella occasione non eravamo tanto così convinti di esserci riusciti per cui io terminerei la condivisione dello schermo e poi lascio a voi grazie mille grazie mille Paolo direi che io vabbè gli spunti sono molti a mio parere io mi sono appuntato una quarantina di domande so se hai tempo no domande e considerazioni no scherzo mi sono appuntato alcune cose un po' di domande di considerazioni ma da scaldare la pasta però ecco lascio anche ad altri se avete sia domande sia considerazioni sia vostre esperienze da portare in questo senso nel frattempo è arrivata un po' di gente tra cui eccolo qua grande Jacopo Callao buongiorno anche Valerio ciao 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 Paolo ciao 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 io porto una piccola esperienza noi da poco lavoriamo con rilievi con drone leader soprattutto finalizzati innanzitutto lavoro in un ente di ricerca che è l'ISPRA sono un geologo da poco lavoriamo con queste nuove tecnologie di rilievo leader e comunque insomma facciamo aerofotogrammetria da due tre anni ormai riguardo alla comunicazione spesso io mi sono trovato a diciamo avere difficoltà di comunicazione con i miei capi con i miei superiori che dicevano eh ma ci avete il drone ve l'abbiamo comprato andate a fare i rilievi qui 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 e quindi la difficoltà di comunicazione che ho incontrato è quello di diciamo far passare il messaggio che eh diciamo eh esistono delle operazioni propedeutiche necessarie ad un volo eh sia tecniche che burocratiche quindi questo è il principale scoglio spiegare ai miei superiori che non si può volare ovunque e che bisogna rispettare delle norme un'altra un'altra cosa che mi so appuntato è alla domanda che Paolo fa non so se riesco a rendere semplice diretto breve diciamo i messaggi le comunicazioni sul web spesso che che porto avanti e la risposta per me è assolutamente sì i tuoi i tuoi video i tuoi contributi sono assolutamente fondamentali per noi tecnici come spesso ti scrivono e ti dicono ecco io lo lo confermo e lo sottolineo anche in questa occasione grazie grazie Valerio tu hai fatto secondo me una considerazione molto interessante e poi mi farebbe piacere anche sentire cosa ne pensa Jacopo per quanto riguarda la parte dei droni io faccio soltanto una considerazione su quella che è un passaggio che hai fatto i tuoi superiori dicono vi abbiamo comprato il drone perché non andate fate e utilizzatelo ecco io prendo questo spunto sempre nell'ambito della comunicazione per quanto riguarda quello che ho visto succedere o comunque sta succedendo adesso legato al mondo dei droni legato al rilievo con i droni è capitato mi è capitato un paio di occasioni e non sono poco un paio di occasioni che in anche richieste formali di offerte di preventivi anche da parte di pubblica amministrazione fosse richiesto l'utilizzo fosse richiesto il rilievo con drone o il rilievo aerofotogrammetrico secondo me questo è uno sbaglio nella comunicazione nel senso che quando tu richiedi un servizio magari poi quel rilievo lì serviva per fare una cartografia quindi la classica applicazione topografica quando tu hai un problema dovresti chiedere che cosa dovresti chiedere che cosa vuoi in output quindi dovresti cercare di avere la risoluzione del problema senza dire qual è lo strumento che vuoi perché non è detto che quello sia la soluzione migliore anche questa secondo me è una comunicazione poco efficiente tu mi incarichi di una cosa mi incarichi per darti un output ma non sei tenuto a dirmi che cosa vuoi avere che cosa vuoi che io utilizzi per raggiungere quel risultato secondo me questo è abbastanza importante e non è ora con questa cosa qua dei droni non è per niente già sta succedendo questa cosa magari Jacopo non so anche tu visto che con i droni ci sei dentro con tutti i due piedi se è una cosa che ti capita quindi droni a manetta senza poi magari rendersi neanche conto di quello che poi sono le reali esigenze di chi ti fa la richiesta ma certo sempre così hai detto benissimo nel senso che non ha senso che uno mi indichi la tecnica con cui cioè il drone o il modello del drone per assurdo con cui devo fare questo rilievo ma ha senso capire che cosa ti serve come output dopo di che se io vado a piedi con una mongolfiera o con una polaroid e un bacco non sono affari certo del cliente il cliente compra un risultato cioè ha un'esigenza e quindi tu devi combare con l'esigenza il fatto che ci sia in effetti con i droni questa tendenza di voler riempire già e suggerire il modo in cui uno deve fare questo rilievo pur tra l'altro non sapendone nulla in effetti è una cosa che trovo anche io abbastanza fastidiosa perché purtroppo o per fortuna non lo so comunque i droni adesso sono nella bocca di tutti quindi qualunque cosa può essere fatta con un drone e quindi fa anche bello scrivere rilievo con drone fallo col drone eccetera però poi alla fine come dire non sempre si può fare oppure non ha senso suggerirlo invece coglievo l'occasione da quello che ha detto Valerio di raccontarti questa cosa che noi abbiamo fatto diverse forniture di droni ad amministrazioni pubbliche sostanzialmente e perché spesso decidono di comprarlo perché hanno fondi o o comunque hanno l'interesse per farlo sostanzialmente non è il certo caso di Ispra ma parlo di altri hanno magari quel momento di fondi hanno il desiderio di avere in casa questa strumentazione che poi di fatto non riescono ad utilizzare per vari motivi primo fra tutti è il motivo burocratico interno nel senso che talvolta le amministrazioni pubbliche sono talmente schiacciate dalla loro stessa burocrazia che alla fine comprono della strumentazione che poi non riescono ad utilizzare o non riescono neanche vagamente a sfruttare rispetto a quanto quella stessa strumentazione potrebbe rendere e sono meno propensi diciamo a fare un accordo di servizio un'azienda tipo la nostra per avere la strumentazione perché vogliono avere la strumentazione in casa e questo oggettivamente è un'altra non senza l'italiana perché sostanzialmente poi i soldi vengono spesi ma non non vanno al punto ecco quindi è un po' mi ricollego alla cosa che dice Valerio diciamo e vi porto un esempio fra tutti senza specificare diciamo il soggetto pubblico ma noi abbiamo fatto una fornitura di droni pur suggerendo di acquistare il servizio invece che invece che il drone stesso però c'era questo desiderio qua dopo poco si sono accorti di un problema burocratico interno per il quale il drone che continua all'interno una memory card che quindi registra ipoteticamente registra dati di privacy ipoteticamente il drone non rientrasse a casa per un incidente o qualunque altro motivo un is intercettato qualcuno prendesse quella memory card e qualcuno vedesse che dentro c'è quella roba lì insomma alla fine il drone non si può usare per motivi di privacy perché se registra allora si innesca tutto questo meccanismo se non registra non serve un cavolo e quindi sono questi ero stato un po' fuori tema ma no 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 Jacopo è comunque una diciamo una tematica comune anche in Ispra dove per poter utilizzare diciamo all'inizio ognuno gestiva il proprio drone ogni servizio che costituisce il mio istituto gestiva il proprio drone da solo è stata operata una rivoluzione dentro l'ente è stato creato un apposito servizio che gestisce tutti i droni perché l'operatore è unico è Ispra e quindi in questo senso ancora siamo all'inizio siamo riusciti a stento diciamo a poter mettere in regola i nostri droni però ancora siamo lontani da un processo performante e comunque è un problema che riguarda anche noi il fatto di gestire questo parco di di droni e sono d'accordo con te che spesso vengono fatti questi acquisti senza poi pianificare a lungo termine il loro utilizzo ecco comunque grazie Valero dico ancora a Paolo due cose che ho seguito il suo intervento con piacere come sempre che lui va dritto al punto e c'entra le questioni e tra queste proprio il concetto del tecnico commerciale che è una cosa che anche noi tendiamo a patire sempre di più nel senso che a volte tu ti rendi conto che parli con persone che vogliono venderti delle cose o che vorrebbero provare a farlo che non hanno neanche idea di chi colore è quello strumento che ti vogliono vendere e non dico di cosa faccia cioè nel senso che forma e questo effettivamente forse è una tecnica di vendita un po' obsoleta che secondo me non paga più assolutamente non paga molto di più uno che sa di cosa sta parlando quindi un approccio tipo il tuo ma anche tipo quello di Tiziano il nostro generale di persone che di fatto vivono sul campo con la strumentazione lì e che dunque hanno dei consigli reali e hanno idea di cosa fa quello strumento in maniera reale che te lo vogliono vendere a tutti i costi in effetti ci sono ancora aziende un po' vecchio stampo in Italia che fanno alcun tipo di rivendita che hanno questi commerciali che così ecco che non si sono mai stati fuori dall'ufficio è un approccio un po' più aggressivo condivido ma io Paolo scusa ho due due considerazioni che sfociano forse in una domanda ma la prima è una considerazione che si lega a quello che diceva Valerio che ha toccato un tema secondo me centrale che volevo in parte sottolineare anch'io quando dice che ha difficoltà a comunicare con suoi superiori noi tendenzialmente soprattutto se pensiamo a te Paolo a 3Dmetrica stiamo pensando a un tipo di comunicazione che è quella del tecnico che comunica tipicamente via web ma non solo però insomma comunica verso l'esterno quindi ha le sue esperienze le racconta nel modo più semplice più immediato più diretto possibile e comunica verso l'esterno in realtà la comunicazione è paradossalmente un problema molto molto attuale anche all'interno della stessa azienda anche all'interno di persone che hanno magari anche un vissuto comune si vedono fisicamente e come dire lavorano all'interno della stessa azienda quindi con dinamiche verosimilmente simili ora qui ci sono anche un po' di miei colleghi collegati e anche loro sanno che su questo io sono sempre anzi forse un po' non fare figuracce no no ma lo dico in maniera molto trasparente però non è semplice lo dico per accentuare quanto sia importante la comunicazione in ambito tecnico anche tra colleghi qualche volta servono due tre riunioni per arrivare in fondo in cui io ho la sensazione o il mio collega che parla con me la sensazione di dire ok ora mi sono spiegato in maniera esattamente come volevo ma ci vogliono due o tre riunioni quindi questo ha testimoniare il fatto che non è così banale soprattutto se si parla di argomenti tecnici l'altra considerazione che volevo fare che in parte si lega a questo è tu a un certo punto hai fatto una slide che dice tecnicismi al minimo allora io provocatoriamente ti vorrei dire ma il titolo dell'intervento però è comunicazione comunicare in ambito tecnico allora la sfida è ovviamente comunicare facilmente semplicemente argomenti complessi altrimenti non ci porremmo neanche il problema però secondo me qua bisogna avere attenzione a una distinzione che comunicare comunicazione non è formazione poi tu fai anche un'attività che sfocia nella formazione cioè i video tutorial sono anche formazione però dov'è il punto il punto secondo me è nella comunicazione tu a un certo punto hai detto giustamente secondo me la responsabilità è di chi parla di chi comunica di chi prepara il materiale nella formazione la responsabilità invece è veramente dall'altra parte cioè è di chi è molto di più anche da parte di chi si forma mi viene però da dire che la responsabilità è un tema centrale secondo me e anche nella comunicazione un po' di responsabilità anche da parte di chi ascolta c'è e quindi secondo me questo vale anche nella comunicazione in azienda ad esempio che faceva Valerio un po' di responsabilità sta anche nel superiore che però quando gli si dice guarda che il drone che ho comprato non posso farlo volare a babbo ovunque qualsiasi o se ne sta o si fida della persona che gli parla o al massimo si informa un po' però qualcosa deve fare altrimenti come dire non c'è comunicazione è una roba che vedo molto nei canali di 3D metrica quelli un po' più ristretti che funzionano bene perché? beh anche perché da parte degli ascoltatori come dire c'è un ruolo quindi c'è anche una responsabilità l'ascoltatore non è soltanto uno che prende per oro colato quello che tu dici anche perché sarebbe un bel illuso diciamo però come dire risponde dice la sua oppure anche se non è d'accordo lo dice quindi c'è anche un po' di responsabilità da parte di chi riceve la comunicazione questo per la comunicazione tecnica poi mi taccio dopodiché probabilmente sarebbe interessante fare noi abbiamo detto delle cose oggi che qualche esperto di comunicazione comunicazione in senso lato ecco forse non condividerebbe potrebbe essere interessante fare un confronto però per la comunicazione tecnica io credo sia così sono perfettamente d'accordo tanto poi questo qua andrà online per cui poi lo spammiamo a tutti quelli che si occupano di comunicazione e ci dicono che cosa pensano ah sicuramente secondo me anche tu hai toccato un tema molto interessante formazione informazione informazione quindi comunicazione per scopo formativo per scopo informativo sicuramente c'è una responsabilità da parte anche di chi ascolta ma credo che forse si potrebbe provare a tracciare una linea che non so quanto possa essere netta che è quella della intenzione intenzionalità nel senso se io mando un messaggio a delle persone ad esempio utilizzando lo strumento web quindi utilizzando un social network quindi non direttamente indirizzato a qualcuno nello specifico ma provando a comunicare qualcosa dalla parte di chi ascolta di chi legge l'intenzione è un po' debole se passami questo termine nel senso che io scorro feed linkedin oppure guardo scorro feed di youtube vedo un video vedo un post non avevo intenzione di approfondire quell'argomento per cui vabbè poi mi ci fermo magari lo trovo interessante lì secondo me la responsabilità sta tutta sulle spalle di chi comunica perché comunque come entrare nella porta di qualcuno come entrare in casa di qualcuno anche se ormai il web diciamo la sfera privata è abbastanza discutibile e quindi lì il messaggio secondo me deve essere il più chiaro possibile in modo tale da poterlo far arrivare in maniera efficiente nella formazione la cosa è molto diversa nel senso che se io intendo formarmi allora intendo si presume che intenda investire tempo spesso investire anche soldi in quella che è un'attività di mia formazione allora c'è una responsabilità anche mia come studente nell'ascoltare nel fare mio e nell'essere sul pezzo quando mi arrivano delle informazioni senza dubbio potrebbe essere una linea di demarcazione questa anche nella formazione però io credo che ma penso che lo possiamo testimoniare tutti quanti che abbiamo partecipato a convegni partecipato a conferenze e letto cose formative letto dispense c'è comunque una responsabilità di chi comunica perché alla fine è evidente che se il messaggio riesca a farlo passare in maniera più leggera pur essendo magari dei macigni che non sono per niente leggeri se poi andiamo nella parte tecnica arriva e quindi alla fine io come comunicatore ho fatto centro però è assolutamente vero comunque io l'ho fatto in maniera un po' troppo spinta a quella di accollare la responsabilità soltanto a chi comunica ma in realtà la responsabilità è anche di chi ascolta a questo proposito ti rigiro io una una domanda che mi interessa proprio in questo tema visto che GTR si occupa tanto tra le attività di GTR c'è la parte dei sistemi informativi web GIS che hanno penso poi dimmi tu se è così come target come cliente le pubbliche amministrazioni magari sono le pubbliche amministrazioni che sono più più grosse più strutturate questa Genova come di Genova provincia magari sono delle realtà piccoli comuni che non lo sono che hanno dei tecnici che fanno un po' tutto che magari non hanno neanche tanto di dimestichezza con quello che è il web GIS e magari voi vi proponete e dovete provare a spiegargli che cos'è un web GIS lì la responsabilità secondo me in parte è vostra che dovete comunicare in maniera semplice che cos'è il prodotto che proponete ma anche di chi ascolta dire ok è una cosa che può servire al mio comune alla mia comunità quindi percorriamo questa strada però qua te la rigiro a te perché questo è interessante voi vi confrontate con una pubblica amministrazione che è il vostro cliente a cui dovete vendere un servizio a cui provate beh molto semplicemente la risposta potrebbe essere di solito non si riesce a far capire no allora hai ragione questo è un tema centrale che tocca anche come dire anche per certi versi anche l'onestà e la trasparenza qui noi secondo me il presupposto perché la comunicazione in questo caso sia efficace è partire non con l'idea di vendere noi in questo caso all'esempio che hai fatto è questo non con l'idea di vendere la nostra soluzione o la soluzione che per noi è più semplice o la soluzione che per noi è più remunerativa ma la soluzione che è quella più adatta al caso allora se è così noi cominciamo a parlare col cliente però senza nei limiti del possibile senza preconcetti quindi questo già è un passaggio secondo me centrale l'altro è quello della semplicità della semplicità e della chiarezza una slide che hai messo che è quella del ponte secondo me è abbastanza utile in questo caso e in generale nella comunicazione io la vedo centrale con la pubblica amministrazione è ancora di più perché? perché spesso avendo una struttura magari un po' complessa ci si trova a parlare con persone che ahimè loro malgrado si trovano a dover fare occuparsi di dieci questioni diverse e quindi ovviamente non possono essere verticali approfonditi sul tema dei sistemi informativi territoriali e quindi ovviamente noi dobbiamo fare dobbiamo anche un po' aiutare nel capire qual è il suo bisogno non è scontato anzi nove su dieci non è così che un cliente medio sappia definire per bene i confini del suo bisogno lì dobbiamo aiutarlo secondo me noi però appunto torno a quello che dicevo all'inizio non avendo già idea io definisco i suoi bisogni così almeno gli vendo la mia soluzione più remunerativa però così non funziona i bisogni di uno potrebbero essere diversi ai bisogni di un altro quindi si tratta un po' di essere molto 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 trasparenti però molto diretti ecco sul diretto ti rigiro a te una domanda un'ultima domanda poi se c'è qualcun altro possiamo andare avanti non è un problema tu usi molto LinkedIn io anche e continuo a credere che sia uno strumento molto efficace per la comunicazione tecnica LinkedIn però non è sempre esattamente un esempio di comunicazione diretta ogni tanto su LinkedIn vi arriverà a tutti qualche post ironico in cui si ironizza appunto sul modo di comunicare su LinkedIn tipo non so condizioni normali ho visto ancora ieri o l'altro ieri il post che ogni tanto mi ricompare condizioni normali ho preso la patente di guida stessa comunicazione su LinkedIn sono molto contento di dopo un percorso di n.mila anni e in fondo di prendere la patente di guida ora un post di 20 righe con entusiasmo alle stelle ringraziamenti a destra e manca per dire ho preso la patente di guida questo modo di fare che è tutt'altro che diretto tutt'altro che trasparente tutt'altro che semplice però è molto 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 presente su LinkedIn e non solo su LinkedIn e quindi credo io che sia un modo evidentemente insomma che porta i suoi risultati che porta i suoi vantaggi che probabilmente qualcun esperto di comunicazione non tecnica diciamo che è l'argomento di cui stiamo discutendo oggi ma di comunicazione in senso lato ci direbbe no beh quello è un post fatto bene che aumenta la reputation o che ne so che io non sono capace a scrivere però e che credo e che francamente neanche voglio scrivere se devo dire la notte a me non piace molto leggere quel tipo di post però è vero ci sono qua bisognerebbe davvero sentire qualcuno che si occupa di comunicazione ma anche secondo me qualcuno che si occupa di società ai tempi del web e autoreferenzialità credo che ci sia un po' la tendenza di far vedere quello che abbiamo fatto utilizzando gli strumenti che abbiamo a disposizione è innegabile che il web è uno strumento che ci permette di farlo e di poter provare a far arrivare il nostro messaggio a un sacco di persone nella comunicazione io credo in una cosa credo molto in una cosa nella comunicazione via web però anche nella comunicazione in generale credo nell'utilità cioè quando uno si approccia a un messaggio a un post o a un video credo che quello che deve esserci di base sia l'utilità cioè è utile a qualcuno quello che sto scrivendo quello che sto pubblicando il video che sto facendo visto che spero che sia ancora in chat Michele tempo fa Michele mi ha fatto un commento a un post che ho scritto su LinkedIn facendomi riflettere sulla cosa che in effetti quel post che avevo scritto era tendenzialmente un po' più autorifferenziale per quanto riguarda gli strumenti che avevo utilizzato e non aveva dato una reale utilità che aveva letto mi ha fatto è stato molto utile quel commento al di là che Michele è sempre un criticone e lo dico sorridendo però è vero non aveva in realtà dato un'utilità concreta a quel post credo che debba essere la base cioè se scrivo qualcosa deve essere utile a qualcuno poi è chiaro che se prendo 100 persone magari 10 persone avranno ricevuto un qualcosa da quello che ho scritto magari 90 sapevano già tutto per 90 era la banalità però magari a quelle 10 qualcosa è servito è chiaro che un post autoreferenziale o comunque con contenuto dove si dice con grande piacere abbiamo iniziato una nuova commessa per Pinco Paldino a chi è utile non so non vedo un'utilità in questa cosa ma qua forse sono un po' troppo tranchean e un po' troppo severo su questo aspetto però credo che di base ci debba essere l'utilità e un'altra cosa riprendo un'altra cosa che ho detto che secondo me è molto importante è l'onestà cioè se io ti scrivo un'email e ti chiedo un contatto secondo me è molto onesto chiederti dirti subito perché ti sto chiedendo questo contatto senza dire ma perché non ci vediamo per prendere un caffè non facciamo una web call dimmi subito perché vuoi incontrarmi perché vuoi parlarne e magari ti dico sì sono interessato magari ti riguarda no non posso perché ho determinati motivi che mi fanno dire subito di no l'onestà secondo me deve essere veramente una alla base di tutto quanto e quindi trasparenza onestà credo che siano molto importanti per una comunicazione efficace poi alla fine uno può comunicare quello che vuole può anche non essere efficace va bene così però però sì c'è la tendenza anche su LinkedIn a fare queste cose credo che sia un po' un retaggio che arriva dal primo social network di grande diffusione che è stato Facebook che adesso comunque adesso anche qua si dovrebbe parlare con chi se ne capisce di queste cose però c'è una tendenza anche ad andare su altri social network tipo LinkedIn forse a tra virgolette inquinare un po' questo posto è inevitabile che sia così per cui si tratta un po' alla fine di provare a tirare fuori quello che è utile quello che è buono e ce ne sono tante cose utili secondo me su LinkedIn che quindi ci possono aiutare in qualche modo l'abbiamo monopolizzata in questo senso non so se poi qualcun altro vuole dire qualcosa però posso umilmente grande allora io vi sto ascoltando nonostante sto continuando a piazzare i cavalletti quanti mi stai piazzando eh guarda devo farne due chilometri quindi ce n'è un po' ci sono altri due miei colleghi detti comunque io Paolo lo apprezzo tantissimo il lavoro che fa Paolo secondo me ha aiutato me aiuta tantissimo altre persone ogni tanto nella sua comunicazione ficca dentro troppi termini inglesi ma perché non può farne a meno non può farne a meno perché in italiano probabilmente quel vocabolo lì non esisterebbe nemmeno l'unica cosa che rinpovero a Paolo è che mi fa venire da dormire ogni tanto il tono di voce piatto cambialo è grande così perché per restare rompicoglioni fino alla fine non puoi dire che sono rompicoglioni non mi offendo è così perché se non esiste rompicoglioni te non andresti avanti ma poi se lo tagliano il video a G3 comunque sia la comunicazione è importante quello che fa Paolo secondo me è un ottimissimo lavoro poi ogni tanto vado a beccarlo che dice delle cose che secondo me come quella volta che mi ricordo quando ti ho scritto quel commento bastava che all'inizio dicevi guarda sponsorizzo quella marca che in realtà non è così però peraltro insomma però tornando ai clienti quando arrivano i clienti che chiedono la nuvola di punti dico cosa ti serve realmente la polilinea dove vuoi fare la nuvola di punti in mezzo al bosco allora gli dico lascia stare perché così 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 per quanto riguarda essere diretti penso che Paolo sappia già quanto sono diretto quindi può venire il Papa in persona quindi se non ti parlo io inizio con lei lei sì cerco di farti capire però se tu insisti nuvola di punti in mezzo al bosco allora io cerco di fartela capire con le buone e poi ti dico senti vai da qualcun altro perché non mi ci metto neanche oppure gli spara un prezzone che mi ci se va c'è le gambe se non va va da qualcun altro e sarà la stessa risposta perché voglio vedere chi viene a dirmi in mezzo al bosco d'estate con qualsiasi leader qualsiasi leader venga fuori un buon risultato quindi io faccio il mio lavoro che sono geometra so cosa posso affrontare so cosa dire al cliente senza mezzi termini è inutile che giriamo attorno a volte bisogna tirar fuori la buona e vecchia stazione totale fine vero punto io adesso vi debbo lasciare vi ringrazio tantissimo scusate le intrusioni grande Michele grazie mille grazie grazie faccio una considerazione un attimo su quello che ha detto Michele in chiusura del suo del suo commento credo che una comunicazione efficiente sia anche quella che a un certo punto dice no nel senso che quando uno viene chiamato per fare un lavoro in effetti ha ragione Michele poi sulla parte leader se volete intervenire voi fate voi le vostre considerazioni però quello che ha detto Michele voglio il rilievo con drone con fotogrammetria ad esempio o comunque il rilievo con tutti i costi in una condizione in cui effettivamente il tecnico sa che il rilievo con drone non si può fare secondo me è una comunicazione efficace a dire non si può fare io non lo faccio ma anche da un punto di vista etico questo poi c'è anche tutta una parte legata all'etica è molto più diretto dire no non si può fare e piuttosto dire vabbè allora non lavorerai con me non ti farò fare altri lavori piuttosto che provare a barcamenarsi in delle situazioni in cui il risultato sappiamo benissimo che non è secondo le aspettative poi dover giustificare il fatto che ah ma io te l'avevo detto che il rilievo lì col drone non si poteva fare risolta da questo ma io non avevo capito che i limiti fossero questi e poi dopo si allora si che le cose possono avere un grande attrito secondo me un no spesso è molto 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 più più funzionale rispetto a un si ma proviamo a vedere da altre parti assolutamente penso anch'io penso anch'io non è facile ogni tanto dire di no però sì sì assolutamente sì praticamente abbiamo detto più volte che abbiamo parlato di comunicazione però servirebbe un esperto di comunicazione quindi abbiamo parlato per un'ora così di cose che non sappiamo in sintesi sì 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 e c'era anche diversa gente che è stata che è stata con noi c'era anche pensa un po' no no va bene ti ringrazio ti ringrazio molto che lo sia stato molto molto utile molto interessante nella misura in cui ad esempio io ho in mente un po' di cose per cui mi piacerebbe proseguire quindi magari vedremo di farne poi uno con un taglio magari un po' diverso in ogni caso metteremo il video su youtube per cui anche lì sopra ci sarà modo se volete di commentare di aggiungere appunto commenti vari ci lasciamo perché ahimè è arrivata l'ora lo spirito del job break è quello insomma di fare un'ora e che un'ora sia in modo che poi ognuno possa tornare al suo lavoro vi lascio con una due comunicazioni una è quella del prossimo job break che sarà il 2 di febbraio e sarà sul tema adesso vi condivido velocemente lo schermo parleremo di ok lo vedete di mobile GIS quindi due applicazioni Qfield Input App due applicazioni che consentono di raccogliere dati in campo col proprio smartphone e entrambe applicazioni open source che consentono in qualche modo di velocizzare il lavoro in campo per raccogliere dati anche qui lo spirito sarà sempre lo stesso noi faremo vedere un po' la nostra esperienza quindi 2 febbraio ore 9 e basta direi comunicazioni altre non ne avevo ringrazio molto Paolo sul canale YouTube metteremo anche tutti i riferimenti a 3D Metrica ma direi che non è il caso diciamo sono già noti però ovviamente li metteremo e grazie a tutti di aver seguito buona giornata e buon lavoro grazie grazie Tiziano grazie Paolo ciao Valerio ciao grazie a tutti